Il 5 e 6 gennaio prossimi, dopo 20 anni dall'ultima rappresentazione del 1999, torna a Vico nel Lazio il presape vivente. Fervono i preparativi tra le stradine e le piazze del borgo medievale. Saranno infatti circa 30 le scene da realizzare e che vedranno protagonisti moltissimi abitanti di Vico e del territorio limitrofo. Nel labirinto di stradine del borgo ernico, che per l'occasione e in più punti del percorso sarà popolato da numerosi e vari animali, adulti, donne, bambini ed anziani, saranno per due giorni protagonisti assoluti. Alla rievocazione storica della nascita di Gesù prenderà parte anche la legge alla Trensis, che ha voluto prestare la propria esperienza e alla quale vanno i ringraziamenti degli organizzatori vichensi, unitamente alla signora Mirella di Trivigliano e Alessia di Torrecaietani, per il prezioso contributo nell'ideazione e nella scenografia. La sinergia e la cooperazione sono quindi l'ingrediente principale di questa nuova avventura, che Vico nel Lazio si accinge ad iniziare, con le sue 25 torri merlate e la completa cinta muraria a forma di accampamento romano, a fare da scenografia naturale al presepe. Il presepe vivente a Vico nel Lazio è inserito nel programma delle manifestazioni natalizie del comune, è organizzato da un comitato spontaneo al quale va il plauso del sindaco Claudio Guerriero, e promosso dai commercianti e dalle aziende della rete d'imprese, una rete per Vico, nell'ambito del progetto regionale Le strade del commercio del Lazio.